Che disastro! Ragazzi oggi vi racconto com'è andata la mia prima maratona qualche giorno fa a Milano ho partecipato appunto a questa gara, la gara regina della corsa 42 km e 200 metri racconto perché è stato un disastro o forse non lo è stato ma andiamo con ordine perciò se sei nuovo innanzitutto sul canale io sono Bogdan parlo di business investimenti e tu mi direi che c'entra la maratona con business investimenti su questo canale parlo anche di crescita personale di mentalità di successo ora ogni persona ha un'idea di successo c'è chi vede il successo come gli yacht, le macchine, i soldi eccetera c'è chi vede il successo come essere il miglior genitore del mondo c'è chi vede il successo come raggiungere dei piccoli obiettivi quotidiani eccetera eccetera quindi ognuno di noi ha un'idea di successo e quindi parlo anche di questo cercando di tirar fuori anche dalle cose negative qualcosa di positivo che possono darci una mano a migliorare giorno dopo giorno anche perché la crescita personale di fatto è questo nel senso ci prendiamo la responsabilità di quello che ci succede capiamo in quale punto siamo e dove vogliamo arrivare giorno dopo giorno iniziamo a migliorare un passo alla volta per raggiungere perlomeno quello che vorremmo raggiungere ma veniamo a noi quindi parliamo di maratona e perché è stato a mio avviso a caldo un disastro tutti quanti mi scrivevano come è andata, come è andata, come è andata e io dicevo una merda, una merda ragazzi, una merda ve lo racconterò allora premesso che vabbè non l'avevo mai fatto ovviamente mi ero preparato diciamo che la preparazione alla maratona è come quando prepari un matrimonio quindi decidi, ti prometti qualcosa molti mesi prima e dici guarda io voglio fare la maratona la voglio fare con te quindi lo dici, è una promessa che fai al tuo corpo alla tua mente, al tuo cuore, al tuo spirito quindi dici voglio fare questa gara è decisamente una cosa impegnativa ci metteremo mesi a farla a prepararla quindi tu ogni settimana devi aggiungere un pezzettino a quello che è la preparazione quindi ci sono varie varie sessioni diverse da fare nel weekend solitamente vai a fare i lunghi io ho fatto tutta la prassi quindi la preparazione a questo matrimonio è andata come doveva andare ho fatto gli allenamenti che bisognava fare nel weekend appunto facevamo i lunghi quindi due ore, tre ore eccetera di corsa quindi nessun problema a livello fisico e quindi mi sentivo abbastanza pronto devo essere sincero anzi mi ero messo mi ero imposto anche dei tempi che secondo me potevo anche raggiungere il giorno della gara ero abbastanza tranquillo parto i primi chilometri vado discretamente bene seguo i pacer delle tre ore quaranta tre ore cinquanta per finirele ci sono dei per chi non è pratico neanche io lo ero nel senso era la prima che facevo però ci sono dei personaggi in gruppetti che mantengono una cadenza per tutta la gara quindi se tu stai con quel gruppo lì sai che più o meno arriverai appunto in tre ore cinquanta tre ore quaranta c'è il gruppo delle quattro ore delle quattro ore e mezza dipende ok tu in base a quello che ti senti quello che vorresti è segui quel gruppo ok io ero in quel gruppo lì quindi quello delle tre ore quaranta tre ore cinquanta che a mio avviso era un buon ritmo per me non era niente di particolarmente faticoso e perciò seguo questo gruppo a un certo punto e qui e qui avviene la cosa interessante a un certo punto a venti circa premetto e ribadisco che i venti chilometri cioè li faccio da mesi e mesi la settimana prima ho fatto una mezza anche abbastanza veloce ero diciamo fresco una mezza sono i 21 chilometri quindi ho fatto una mezza andando particolarmente a ritmo sostenuto ma senza scannare più di tanto senza avere una fatica esagerata eccetera però il giorno della gara appunto la domenica della maratona al ventesimo chilometro debotto così io mi fermo io sono uno che non mi fermo cioè non si ferma mai perché so che se mi fermo poi mi fermo mi fermo basta non non riesco più a ripartire cominciano a venirmi dolorini eccetera quindi cosa faccio mi fermo al ventesimo il cervello ha spento tutto block out totale non fisico ma mentale mi fermo mi accosto comincio a camminare e un po' incazzato un po' non capivo il motivo mi son detto boh basta io non corro più adesso mi ritiro non non so bene il motivo so che durante le maratone ci sono i vari muri mentali dei 30 chilometri dei 35 chilometri eccetera perché tu arrivi e sembra che non arrivi mai e a un certo punto ti rompi un po' le palle non ce la fai più eccetera però potevo capirlo se fosse successo appunto al trentesimo chilometro al trentacinquesimo chilometro eccetera non ho capito bene perché mi è successo al ventesimo che li ho fatti mille volte eccetera comunque più o meno zona Montestella San Siro io totalmente in blackout mi son fermato ho iniziato a camminare ho spento il Garmin ho detto fanculo la maratona fanculo la maglietta le medaglie adesso prendo la metropolitana e torno all'arrivo a recuperare tutto il vestiario eccetera basta mi ritiro ufficialmente mi ritiro ed ero talmente convinto di questa cosa che mi veniva il nervoso solo a pensarci no come cazzo è possibile che ho passato tutti questi mesi ad allenarmi in maniera adeguata per poi fare una gara così così orrenda 20 km e poi sei fermo a camminare e mi sorpassavano pure i vecchietti non me ne capacitavo allora ho cominciato vabbè a camminare cercando di tornare perlomeno davanti alla fermata appunto di San Siro per poi tornare a casa dopo qualche minuto passano i Pacer delle 3 ore 50 le ho detto ok se questi qua comunque arrivano sotto le 4 ore potrei comunque farmela a piedi perché poi iniziavano ad avere iniziavo ad avere ho provato a a corricchiare un pochino mi venivano i crampi perché dopo ti fermi corri ti fermi corri è un disastro assoluto piuttosto che farsi una tirata unica di corsa e quindi non riuscivo a correre non riuscivo a camminare non sapevo bene cosa fare a un certo punto però mi sono detto allora io sono il primo sono il primo che dice alle persone che non bisogna mollare io sono il primo sono la prima persona al mondo che dice alle persone che non mollare e proprio oggi proprio adesso per non si sa quale motivo per qualche dolorino che mi sta avvenendo dovrei mollare direi di no quale esempio posso portare a casa se mi ritiro adesso ero molto combattuto perché comunque mi mancavano 22 chilometri 22 chilometri da fare a piedi corricchiando a piedi corricchiando cioè era era un'agonia ok però mi sono detto quale esempio posso dare io quando torno a casa ai miei figli alle persone che collaborano con me alle persone che si allenano con me alle persone che io cerco di ispirare quotidianamente facendo appunto delle azioni perché con le parole sono buoni tutti sono buoni tutti a dire ma non bisogna mollare bisogna andare avanti eccetera ho capito ma poi quando sei lì sono le azioni che fanno la differenza no e quindi mi son detto non posso non finirla ci metterò quello che ci metterò farò così andrò piano cammino corricchio quello che riesco a fare faccio ma la devo finire per forza a quel punto inizio a corricchiare e cercare di andare avanti sono stati è stata veramente un'agonia perché correre così è stato molto più faticoso che correre normalmente ogni ogni chilometro veramente è stato un macigno che che mi cadeva addosso però alla fine della fiera poteva andare molto peggio poteva essere un disastro vero il fatto di ritirarmi e non finirla poteva essere un un fallimento totale non tornare a casa e portare la medaglia ai miei ai miei bambini poteva essere un fallimento di una domenica uscire per andare a fare una corsa o uscire per diventare un maratoneta io sono Bogdan se ti piacciono questi argomenti tematiche eccetera lascio qua sotto anche dei link per iniziare se sei uno sportivo un atleta eccetera quello di cui ci occupiamo noi è anche condividere promuovere sostenere uno stile di vita sano e attivo quindi lascio qua sotto dei link che puoi iniziare a guadagnare anche dalla tua passione sportiva poteva essere un totale disastro e invece sono un maratoneta ciao